Oggi 13 dicembre si festeggia Santa Lucia. La festività di Santa Lucia è una festività di origine cattolica che celebra appunto Santa Lucia, una martire cristiana che secondo la leggenda portava cibo e aiuti ai cristiani che si nascondevano nelle catacombe di Siracusa. In particolare era caratterizzata da questa corona di candele che portava in testa per illuminare la sua strada ma anche per avere le mani libere per portare più cibo possibile. La festa di Santa Lucia cade il 13 dicembre che prima della riforma del calendario coincideva con il sostizio d'inverno e in particolare cadendo diciamo durante l'avvento segnava l'inizio del tempo di Natale. Questa festività si celebra oggi in particolare a Siracusa e nei paesi scandinavi dove le ragazze sono solite indossare una tunica bianca cinta da una fascia rossa in ricordo appunto del martirio della Santa e con una corona di candele in testa. Queste ragazze portano dei biscotti e dei pani di zafferano in processione proprio come augurio di prosperità e della luce che arriva ma anche come augurio per le giornate diciamo buie che in quei paesi vivono durante l'inverno.